Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Scribernauts Unlimited Oggi siamo tornati con il nostro Maxwell alla ricerca di stelle lì, quello che sono Prima di partire col video ragazzoli io vi ricordo di lasciare like e commenti, vi ringrazio per questo E vi ringrazio anche per il supporto che state dando e che date, darete a questa serie Fatemelo sapere se volete altri episodi Detto questo vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook con i link in descrizione Detto questo signori, partiamo con il video Ok, allora ragazzoli, se non ricordo male, se io premo qua, lui mi dovrebbe dire i nostri obiettivi E infatti il bambino qui che sta a correre, l'altra oltre è diverso però, può essere? Fatemi divertire, crea oggetto, come lo facciamo divertire ragazzoli? Come lo possiamo fare divertire? Vediamo pallone da calcio Pallone da calcio Intendevi? Calvo, caldo, ma che stai a dire? Pallone, 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 voglio un pallone Ma cos'è, un fiore? È contento? Non è contento del fiore, non lo vuole Palla, palla, cos'è esce con palla? Palla di vetro, la vuoi una palla di vetro zio? Ti do una palla di vetro, ti diverti con la palla di vetro? No, mamma mia, con una videocamera, la vuoi una videocamera zio? Così ti riprendi? No, manco la videocamera le piace Mamma mia, ma che vuole questo? Ma ha fatto venire nervoso, battele, non ci voglio più parlare con te Questa che cos'è? Crea oggetto, ho parcheggiato dove non dovevi Scrivi un oggetto Carro attrezzi Carro attrezzi Questo usa questo comando per collegare più oggetti Come? Devi unirla Come la unisco? Ok Ok, ora dobbiamo monta Vediamo se riusciamo, monta Perfetto Ok, riusciamo a levarla da qua? Dai, dai, ci stiamo a portare pure la formica Va bene Ok Dovremmo esserci riusciti Smonta Multa per parcheggio regolare Oh, perfetto Abbiamo preso una stars Che cosa carina Una l'abbiamo presa Ok, questo perché sta volando? Metti qualcuno nella cabina telefonica per farne un mio aiutante Uomo Ecco, lo mettiamo l'uomo, lo mettiamo lì dentro Oh, spettacolo È diventato Superman Che cosa carina Ah, posso entrare in farmacia? Entriamo in farmacia Che succede se entriamo in farmacia? Santo asterisco Vai Benvenuto a Santo asterisco Che confusione terribile Allora, ci sono delle stelle Quali sono le prime stelle qua vicino? No, qua L'infermiera L'infermiera Vediamo cosa vuole l'infermiera Crea qualcosa per aiutarmi ad eseguire l'operazione Ehm Bisturi Così lo tagli tutto Zia Dai A posto E questo l'abbiamo portato a termine È guarito già subito Tu che cos'hai? Vieni più vicino per attivarmi Ok, zio Cos'è? Hai paura a parlarmi Aiuti i pazienti che arrivano all'ospedale Ok, dai, dai Aiutiamoli Dottore intervizio inizia Dai così Siamo diventati dedottori Che cosa carina Aiuti i pazienti a trasportare all'ospedale Santo asterisco Ok Che dove? Mi stava in vestì quello Che gli è successo a sto gatto? Accarezza Gattino malato Accarezza Questo vicino sta da cani Crea qualcosa per curarlo Crea un oggetto Ehm Veterinario Dai è così Dai veterinario Che cura il gatto Bella così Ok Il gatto è tornato vivo Perfetto Bella così Poi che altro ci hanno portato? Dentiera Che cos'è questa cosa? Aspettate Ah, deve essere mal di denti Ehm Ai, ho mal di denti Crea Crea un oggetto Dentista Dentista Il dentista Perfetto ragazzoli Ce l'abbiamo fatta Abbiamo il dentista per i denti Che stanno con la dentiera Mamma mia Che cosa brutta Dai, dai Dai Che cos'è questo? Eh, robot arrugginito Robot arrugginito E quindi Robot è rotto Aiutalo a farlo funzionare Ehm Aiutami Devo funzionare di nuovo Ehm Blocca punti Ehm Crea oggetto Ehm Scienziato Scienziato Anche se non c'entra Anche se non c'entra molto Scienziato Dai Perfetto Lo scienziato Che sistema Il robot Stiamo andando alla grande Raga Dai, dai Dai, dai Dammi un altro Che cos'è? Un pacco bomba Che cos'è questa cosa? La storia è Incompleta Dove è l'ultimo capitolo? Ok Blocca punti Che scrive oggetto? Scrittore Dai così Uno scrittore Che continua a scrivere Bello così E il quaderno vive di vita propria E segue lo scrittore Va bene Lasciamo perdere Lasciamo perdere Dai, dai Che cos'è? La macchina Va bene Lasciamo perdere Ormai ho capito il trucco Meccanico Meccanico Sbaglio a scrivere io Ragazzi Perfetto Dagli il meccanico Sistema la macchina Si è rotto sotto il cofano Da a posto La macchina se ne va da sola Questo gioco è posseduto Comunque raga Questo gioco è decisamente posseduto Oh La nostra bellissima stella Dagli così E questa l'abbiamo presa Obiettivo raggiunto Dottore in servizio Completato Abbiamo due starite Starite Starlight Starite Ok Questa l'abbiamo fatta Perfetto Quindi Di qua ci possiamo andare? No Proviamo a salire sopra Dai, dai Saliamo sopra Saliamo sopra C'è un pagliaccio qui da solo Pagliaccio mio Come ti possiamo nuotare? Aiuta a ridere di nuovo Sono simpatico ragazzoli Gli abbiamo messo semplicemente L'aggettivo simpatia Lui è tornato contento Perfetto Va bene La prossima volta La prossima volta Qualcosa di più semplice Saliamo appena di sopra Raga Cosa è successo? Che problemi hanno questi? Che cosa è successo? Arresta l'attacco cardiaco Crea un oggetto Poliziotto Voglio un poliziotto Per arrestare Deve Devi arrestarlo Zio Devi arrestarlo Modifica oggetto Sei sicuro che vuole modificare Questo oggetto? No No Aggiungere aggettivo Morto Cosa è successo? È esploso Attacco cardiaco Non so cosa sia successo Raga Però va bene Abbiamo ammazzato L'arresto cardiaco Questa ora è contenta Crea un oggetto Infermire divertito Va bene Questo Aspettate Fermi un attimo Dove sono le prossime starlight? Qui non ce n'è più Ok C'è un re che non capisco Cosa ci faccia lì Saliamo a piano di sopra Raga Un traguardo Qua sicuramente ci sono Le starlight Infatti sono tutte e due starlight Vedere qualcosa Con i colori della mia squadra Mi motiverebbe a vincere la corsa Azzurro Blocca punti Crea un oggetto Ehm Ci mettiamo Azzurro Principe Principe Azzurro Tieni Ma cosa stiamo Stiamo scherzando? Ha vinto la coppa Io che ho vinto Perfetto Abbiamo Abbiamo Va bene Va bene Mezza parola Mezza parola Raga Torniamo su Quanto è alto questo ospedale? Salve Buongiorno Salve Allora Parliamo con la signorina Ho dimenticato ciò che dovevo consegnare al trapianto Ehm Aggetto Ehm Cuore Cuore organo interno Tieni A posto Ci siamo riusciti Veramente Mi abbiamo dato un cuore così ed è andata bene L'uccellino qui vuole pure qualcosina Ottimo lavoro Bella fatta lì per sbloccare nuovi livelli Bella così Andiamo da lì lì signori miei Andiamo da lì lì Oh Gli abbiamo portato la star lite lì Una sola? Che abbiamo fatto? Forse gli si è sbloccato un piede No Lei ci ha dato il mondo Ci sta dando il mondo Abbiamo preso il mondo Gli abbiamo dato una stella E lei ci ha dato il mondo Siamo stati teletrasportati Goku Super Saiyan No Gli è diventato l'altro piede pure di pietra Ehm Spettacolo raga Ma è enorme È infinito È enorme raga Va bene ragazzoli Allora detto questo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Che mi darete Per il supporto che date Che darete a questo video Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo episodio Bella raga Ciao 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 Ciao